Eccoci qua alla nuova puntata. Oggi sfogliando questa antologia di poesia ho trovato nella sezione Medoevo un trovatore della metà del 200. È una figura, è un poeta, tra l'altro che probabilmente per chi ha letto la Divina Commedia, quantomeno fino al Purgatorio, probabilmente lo ha già incontrato. Quindi il poeta in questione è Sordello da Goito e la poesia si colloca circa dopo il 1269. Leggiamo la poesia. I ricchi di terre e di averi, poveri di cuore e vuoti di senno, non amano pregio né lode né temono di sonore alcuno e nei loro fatti non hanno pensiero di ben fare, né ingegno né arte, perché i Dio di loro non si cura, tanto son vili e senza cuore. Sono costoro gli spregevoli, sciagurati, poveri e ricchi a un tempo e morti ancora da vivi. Sapete perché? Perché fanno tal vita che mai avranno, grazie ad addio, né onore dal secolo, né alcuna gioia nel cuore loro. A parte il fatto che mi sembra appunto un'inventiva contro i ricchi, quindi sostanzialmente questo, Sordello da Goito nella Divina Commedia appare nell'Antipurgatorio, siamo nel sesto canto del Purgatorio, in cui non si sa neanche il motivo per cui Dante ha deciso di mettere quest'anima nell'Antipurgatorio, non si sa il motivo reale. L'unico motivo che il Dante narratore, diciamo, ci rivela è quello che Sordello da Goito avrebbe scritto delle poesie politiche, perché è stato proprio autore di poesie politiche, come per esempio autore del Sordello, questo flanel bel del Cirque Blackhats, non lo so come si pronunci comunque, era un lamento funebre appunto che Sordello aveva scritto e quindi dove si rivolge ai regnanti d'Europa eccetera eccetera. Quindi insomma c'era una componente politica, dopo caso mai vi metto, poi tanto sicuramente chi ha studiato la Divina Commedia queste cose già le sa. E comunque dopo caso mai vi metto anche il titolo di questo lamento. Quindi a un certo punto il canto sesto era cominciato in tutt'altro modo, perché comunque con tutt'altra scena a un certo punto Virgilia e Dante si ritrovano davanti a questa anima, che è un'anima praticamente solitaria, un'anima che li stava guardando e a questo punto Virgilio dice sicuramente lui ci dirà la via più breve per proseguire. Ecco, quindi allora siamo arrivati a questo punto dove Virgilio non ha più giurisdizione nel purgatorio, quindi per andare oltre, per questo cammino deve chiedere informazioni alle anime e in lontananza appunto vede Sordello, vedono Sordello. Quindi si avvicinano per chiedere informazioni e Virgilio gli chiede la via più breve per arrivare al colle, ma Sordello si presenta con questo atteggiamento austero, con un atteggiamento quasi anche poco collaborativo nei confronti di questa domanda inizialmente, perché effettivamente aveva un atteggiamento di anima solenne. Ecco, un'anima di dimostrargli la via, Sordello vuole sapere con chi sta parlando e Virgilio non gli risponde io sono Virgilio, bla bla bla, gli risponde con un'altra cosa, con la propria origine, Mantua, cioè Mantua, che ci ricorda appunto l'inizio del suo epitafio in forma latina appunto e praticamente il solo fatto che Virgilio nomini Mantua fa sì che Sordello lo abbracci, quindi lo spinge ad abbracciarlo, perché anche Sordello appunto è di origine, era di origine di Mantua. Quindi questo è l'aneddoto sulla Divina Commedia, spero di non aver fatto troppi errori, perché insomma, e comunque tanto per farvi capire un po' che tipo di figura fosse. Io vi ringrazio e ci vediamo domani.